Sabato 28 settembre ritorna la notte piccante di Catanzaro, la notte magica del capoluogo. Il capoluogo proporrà spettacoli musicali, mostre, danze, balli, teatro, karaoke, artisti di strada, parco giochi per i bimbi, videoproiezioni, artigianato, l'angolo delle golosità con gli stand enogastronomici, visite guidate, insomma di tutto per tutti e tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della canzone con una madrina d'eccezione, Ramona Badescu. Nell'ambito della conferenza stampa di presentazione, gli organizzatori con in testa il sindaco Abramo hanno sottolineato la fondamentale collaborazione della Camera di Commercio di Catanzaro, della Regione Calabria e soprattutto degli imprenditori. Stanno l'abbiamo riempito un po' di più, abbiamo riempito soprattutto le vie laterali di Corso Mazzini, Piazza del Rosario, Piazza Duomo, Villa Margherita, la Piazza del Politeam, ma soprattutto quest'anno abbiamo inserito degli artigiani, con un'esposizione degli artigiani che sono stati selezionati dall'assessore all'attività economica con grande attenzione, ma come diceva lei prima comunque è un cartellone importante, poi ci sono naturalmente anche dei complessi in più, dei cantanti in più rispetto all'anno scorso, ce ne saranno tre solamente a Piazza Prefettura, quindi anche cantanti per tutte le età, perché ci sono anche i nitrolls, quindi fa riferimento a noi che abbiamo oltre i 50 anni. Ma soprattutto un ringraziamento perché siamo riusciti come quest'estate a organizzare un bel cartellone con l'aiuto degli sponsor. Una grande apertura, un grande colloquio che si riapre con gli imprenditori, tutti che hanno risposto indistintamente sin da quest'estate, lo abbiamo visto con il Magna Greggia Film Festival, lo rivediamo con la notte piccante all'appello dell'amministrazione. La crisi che vive anche oltre al resto del mondo questa città, bisogna accorrere in suo aiuto, lo hanno fatto i cittadini, lo ha fatto l'amministrazione comunale, lo hanno fatto soprattutto gli imprenditori che ha avuto modo di ringraziare, non solo per un contributo economico a favore di quello che ormai è diventato uno straordinario evento della città stessa, e quindi la Camera di Commercio fa da collante fra la società civile, il mondo dell'economia e mi permetto di aggiungere anche tra le istituzioni. Sabato 28 settembre a partire dalle 17.30 il centro storico del capoluogo apparirà nella dimensione di un grande teatro al quale tutti sono invitati per vivere la magia della sesta edizione della notte piccante di Catanzaro. Grazie a tutti.